Vedi, prima cliccate sui mail, chiederò, devi stare alla tua destra, 4-5 giri alla tua destra. Ok, tranquillo, rimani equilibrato così a fare i cerchi, dai tre, poi non condiviamo l'anno, è un esempio, è stato di scaccia. Grazie. 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 Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Aspetta ancora così, si può fare via 90 secondi, aspetta a farlo adesso 90 secondi, ho preso il freno, così la stesse poi il freno, bene bene così, sei il freno, l'hai perduta, hai la mano, hai la mano in casa, continua a sinistra, ok, a sinistra, ma peso, no freno e basta, se la vedi toglia la veda col freno e basta, tempesta. Rato, Francesco, bene. Rato, Francesco. 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 Il vento in lateral 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 Il vento in lateral